Fasano e Franca Villa Al quattordicesimo la risposta del Franca Villa con un sinistro di disenso che si spegne sul fondo. Al ventitresimo è Nadarevic a provarci ancora dalla distanza con Boglic che deve distendersi per respingere il destro dell'attaccante fasanese. Il Franca Villa comunque gioca a viso aperto e al ventisettesimo è ancora disenso ad impegnare guardieri. Le squadre si annullano a vicenda e la prima frazione di gioco non offre più emozioni. Si va negli spogliatoi sullo 0-0. La ripresa si apre con un'occasione per gli ospiti. Al quarantasettesimo punizione di Dauria per disenso che però di testa non trova la forza giusta per battere guarnieri. La terza decide di cambiare qualcosa e allora fuori Ganci e Nadarevic dentro Formuso e Serri. Bella azione ospite al cinquantacinquesimo che libera al tiro ragone che pecca di mira. Al sessantanovesimo Zizzi affossa Thomas Grandis in area e tra lo stupore generale l'arbitro assegna il calcio di rigore. Dagli undici metri va Dauria che si fa ipnotizzare da guarnieri che si distende e para. L'estremo difensore fasanese si conferma uno specialista dunque nel parare i rigori. Ma il Franca Villa non molla e al settantatresimo si rende nuovamente pericoloso ma Dauria in scivolata spara alto. Ancora gli ospiti all'ottantacinquesimo. La difesa fasanese perde palla a centrocampo e parte il contropiede del Franca Villa con Thomas Grandis che pesca Dauria il quale serve un pallone d'oro a De Lorenzo. Tiro a giro del neo entrato ed ennesimo miracolo di guarnieri che devia sulla traversa. Fiammata fasanese all'ottantasettesimo l'anzillotta lancia Serri che conclude sull'esterno della rete. Al novantatresimo è il Franca Villa ad avere l'ennesima clamorosa occasione. Traversone di Dauria e girata di testa di Acosta su cui guarnieri ci mette le dita deviando il pallone quel tanto che basta per farlo terminare sul palo. Finisce così 0 a 0 ma al recriminare sono i rosso-blu di Lazic. Il fasano è tutto da rivedere. Finisce così 0 a 0 ma al recriminare sono i rosso-blu di Tauria.